Non accadeva da oltre un anno che l'Assemblea Consigliare di Fermo si svolgesse in presenza. Lo scorso 30 giugno, alla Sala dei ritratti, la seduta si è aperta con l'omaggio del Sindaco Calcinaro a Serafina Camastra, segretario generale da ora in pensione. E ringraziare il grandissimo lavoro, non so se sarà l'ultimo, Consiglio Comunale, una colonna di questo comune, molto più colonna di un Sindaco, di Assessori o di consiglieri comunali. Volevo ringraziare a nome di tutta l'amministrazione, credo di volerlo fare a nome di tutti quanti, Serafina Camastra. Come l'aspettate? Certo, grazie proprio di cuore, stanno quasi scappando le lati luce per una come me tanto. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, il nuovo regolamento della Polizia Locale, la modifica e approvazione delle tariffe Tari 2021, la manutenzione delle aree verdi, l'affidamento in ausa alla SITE della pulizia di spiaggia, l'interrogazione del consigliere di fermo capoluogo Interlenghi sulla viabilità a Capodarco e Trearchi, mozioni dalla minoranza con fortuna a 5 stelle sulle comunità energetiche e di Interlenghi sull'adesione alla rete dei comuni redi. Muzie Autore dei sovrapposti